In un certo momento per ordine superiori sarei dovuto essere trasferito, poi invece siccome non mi garbava molto il trasferimento, io provenivo anche dai ruoli di complemento, mi si presentò l'occasione di andare nell'Italia, andai nell'Italia, un pochino più complicato, ma è così. Ho fatto un sacco di simulatore, è una cosa tremenda, mi viene la nausea a ripensarci. Sono andato a Seattle a prendere il jumbo e a fare il simulatore di alcune squadre giù direttamente a Seattle. A Francoforte per quasi due anni ci andava ogni mese 10-12 giorni, perché si faceva tutto il passaggio sul jumbo. Una cosa che a lungo andare ti demoralizzava un po' come tipo di attività. Però poi soddisfazioni ce ne sono state, un po' meno sotto il profilo contrattuale, ma non si può fare l'abitudine. Tra cui l'ultima, non so, è la faccenda dei biglietti, che noi barattavamo dei tipi di contratto ai nostri tempi, perché parzialmente ci dicevano, venivano compensati con questi freeze benefit che sono, quando andrete in pensione, il biglietto grande, adesso il biglietto grande non esiste più.